Nell'esercizio di questo video si chiede di calcolare se esiste il limite della seguente successione, ovvero il limite per n che tende a più infinito di n alla seconda più n più 3, tutto diviso, 4 n alla quarta più 3 n alla terza più 2. Allora, vediamo come prima cosa cosa ci suggerisce l'intuizione. Allora, noi abbiamo n alla seconda più n più 3 diviso 4 n alla quarta più 3 n alla terza più 2. Allora, al numeratore, quando n tende a più infinito, il termine che tende a infinito più velocemente è chiaramente questo n alla seconda, perché tende a più infinito più velocemente di n e anche di 3. Per cui al numeratore ci aspettiamo che vada infinito come n alla seconda, mentre il denominatore, il termine che diventa più grosso più velocemente, che tende a più infinito più velocemente, è proprio 4 n alla quarta. Per cui noi ci aspettiamo che il numeratore vada come n alla seconda, il denominatore come 4 n alla quarta, ovvero andando a semplificare questo qui sia all'incirca 1 su 4 n alla seconda, che chiaramente tende a 0 quando n tende a più infinito, per cui quello che ci aspettiamo è che il nostro limite faccia proprio 0. E adesso andiamo proprio a dimostrare questo fatto, quindi dimostrazione. l'idea è quella di usare il teorema dei tre carabinieri, perché da una parte abbiamo che n alla seconda più n più 3 diviso 4 n alla quarta più 3 n alla terza più 2 è sempre una quantità maggiore o uguale di 0, perché n è un numero intero, quindi n è un numero positivo. Dall'altra parte quello che possiamo fare è mettere in evidenza al numeratore il termine di grado più alto, quindi mettiamo in evidenza un n alla seconda e quello che rimane è 1 più 1 su n più 3 su n alla seconda e quindi al denominatore mettiamo pure in evidenza un n alla seconda e quello che rimane sarà 4 n alla seconda più 3 n più 2 su n alla seconda, quindi questo n alla seconda si fa a semplificare e quindi quello che c'è rimasto al numeratore è 1 più 1 su n più 3 su n alla seconda, tutto diviso 4 n alla seconda più 3 n più 2 su n alla seconda, vogliamo maggiorarlo, quindi scriviamo minore o uguale, beh, al numeratore ognuno di questi termini 1 su n è chiaramente più piccolo di 1 perché è 1 diviso un numero naturale, 3 su n alla seconda pure sarà più piccolo di 1 appena n è più grande di 1, già per n uguale a 2 abbiamo 3 diviso 4 che è più piccolo di 1, quindi al numeratore possiamo maggiorare con 3 che è 1 più 1 più 1, mentre al denominatore dobbiamo mettere, per rendere la frazione più grande dobbiamo mettere un denominatore più piccolo e ci basta osservare che questa quantità qui è strettamente positiva perché n è un numero intero e quindi un numero più piccolo è chiaramente 4 n alla seconda perché qui avremmo 4 n alla seconda più un numero positivo, vogliamo una quantità più piccola, ci basta 4 n alla seconda. Quindi volendo possiamo riscrivere questa qui come 3 quarti che moltiplica 1 su n alla seconda che è chiaramente ancora più piccolo di 1 su n alla seconda perché 3 quarti è più piccolo di 1. E con questo abbiamo praticamente concluso perché quello che abbiamo trovato è che 0 è sempre più piccolo di n alla seconda più n più 3 tutto diviso 4 n alla quarta più 3 n alla terza più 2 che a sua volta è sempre più piccolo di 1 diviso n alla seconda. Ora, questo termine qua, 1 diviso n alla seconda chiaramente tende a 0 quando n tende a più infinito e quindi abbiamo che n alla seconda più n più 3 diviso 4 n alla seconda più 3 n alla terza più 2 da una parte è limitato da una cosa che tende a 0 dall'altra parte, è sempre maggiore o uguale di 0 e possiamo concludere per il teorema dei 3 carabinieri possiamo concludere che il limite per n che tende a più infinito di n alla seconda più n più 3 diviso 4 n alla quarta più 3 n alla terza più 2 faccia proprio 0, che è esattamente quello che ci aspettavamo e con questo abbiamo concluso l'esercizio.